Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Oggi parliamo di un episodio che sta facendo discutere molto. Daniele Dal Moro è infuriato. Faccia di ti riempio di botte, ha scritto in un messaggio. Ma cosa è successo esattamente? Ebbene, l'account X, precedentemente noto come Twitter, di Daniele Dal Moro, è stato nuovamente sospeso. La notizia è stata divulgata da Medovenza, che ha condiviso nelle sue Instagram Stories alcuni screenshot delle conversazioni tra l'ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip e alcuni utenti. In questi messaggi, l'imprenditore veneto non ha usato mezzi termini. Se ti becco, prendi tante di quelle botte che ti passa la voglia di ridere. Faccia di... senza... sei e sarai sempre un verme. E ha continuato. Non è colpa mia se i tuoi beni amini ti schifano. Fatti due domande, io ai miei li voglio bene. Ma è un concetto troppo difficile da digerire per una faccia di... come la tua. Questo non è il primo episodio del genere per Daniele. Già nel maggio 2023, il suo account era stato sospeso a causa di uno dei suoi numerosi sfoghi nei confronti del fandom degli Orielle. I sostenitori dell'ormai ex coppia formata da Oriana Marzoli e lo stesso Dal Moro. La situazione è senza dubbio esplosiva e non sappiamo ancora quali saranno le conseguenze di quest'ultimo episodio. Di sicuro, però, Daniele Dal Moro continua a far parlare di sì. Aspettiamo i vostri commenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità. Grazie e a presto!